Ciao ragazzi, è giunto il momento di finire il mio gioco perfetto in assoluto per ora perché è nuovo per cui giustamente la... Sofía, riuscite a colpirlo con il trabucco? Ci proveremo! Preparati! Non credo che riuscirete a colpirlo! Continueremo a provare! Stiamo ricaricando il trabucco! Aspetta! Vai! Sara! Bellissima! Grande! Grande! Non è ancora finita! Preparatevi a sparare un altro colpo! Enviate una squadra! Subito! La voglia è morta! Uno! Salve! Oh cazzo! Che cazzo! Ma questo cazzo è arrivato! Falo fuori! E... Mi dammi una mano! Che cazzo è! Combatteremo fino alla fine! Combatteremo fino alla fine! Scusa tu! Che cazzo vuoi! E' velocissima stanna! Vabbè finché dietro chi se ne fega! Ah! Gentile! Vabbè! Per ora! Aiuto! La tronuta! Axe Confucioso! Basta! Grazie! Molto gentili! Bene! Sì! Ok! Ho capito! Sì! Ho capito! Ma zero! Ci sono ridate però! Non ho ancora finito! Non ho ancora finito! Mi armi non servono contro il piovo. Tornato proprio l'unico appunto! Dobbiamo ricreare il contrattempo! Saremo pronti tra ferro! Sì! Sì! Però parca puttera! Ehi! Ehi! Fioi! Come ca-zza! Ti prego fammi un saldo qui Grazie Aspetta Lara, stiamo ricaricando Ok, siamo pronti, al suo tagliare, via! L'avete sentita, lanciate! Se c'è ancora qualcuno in vita qui, uccidete la Croft, è il vostro ultimo ordine! Nessuno mi fermerà, mai! No, finiti i prieteli, testa di cazzo, finiti, puttana, stupo cazzo Beh, tanto il fucile è una chiagata, in più di distanza, però Guarda che anche questa è una cosa non è per niente male, eh Comunque ora, eh, ecco, appunto, quello che volevo evitare Oh, cazzo! Allora, prendiamoci immediatamente tutti, ecco, appunto Adesso che ho le molle non mi sanno più Scusi Ma tu che cazzo vuoi? Lara, sto tornando verso di te! Ancora! Dai, 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 dai! Finchè mi prendono questi cazzo scusate qualcuno mi dice quando per me ho fatto un po' più piano perchè mi è andato a far vedere gli stessi che succede vai no, perché facciamo anche i cassini madonna che lagata che è mollata non mi hanno visto ma che grosso che è un momento adesso ma io forte sta veramente forte ma non mi fai un cazzo di fungo di questo si adesso sono venuto per pochi secondi sono un po' a fianco o no può essere ah no per lei che è un po' a fianco un po' a fianco un po' a fianco vai è forte, è forte sta armi ora dove dove andiamo? ah qua c'è l'elicottero costati figlio di puttana ora siamo solo io e ti Lara non hai armi non hai alleati non hai speranza non hai scena sì ma ah pure tranquillo sì ma quello che mi chiede è come faccio sconfiggio ma comunque è forte costantino ma non so non hai alleati non hai alleati questo diventerà la tua tua non ho fatto funziona ah no ho capito non nasconderti nell'oscurità sei più forte dei tuoi amici Sì 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 E anche io sia per questa coppia Eccoti qua E' forte Vuole luttare fino alla fine Lascia incazzato Uhhhh Uhhhh Grandissimo Grazie Constantine Che c'è per mi sembra Questo non è il mio destino Io ero nato per la gloria Eh mi spiace Questo non è mai stato il tuo destino Bravo Tua sorella ha fatto in modo che lo credessi Ho fatto Tutto questo Per me No Non provare ad andartene Aspetta La Trinità ha ucciso tuo padre Stai mentendo Ha implorato per la sua vita E quando non ha funzionato Ha implorato per la tua Chi sbagli Basta Sta zitto No 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 a tutti allora io però sono un bastardo e quindi stoppo l'episodio da qui sulla porta bella ragazzi spero che vi vi sia piaciuto possono tassare davvero l'ultimo episodio se vi è piaciuto commentate condividete ma sono un bastardo ma per questo che voglio che voi mi adorate ciao ciao